Sono arrivati da gran parte della Lombardia i marinai che ieri mattina a Pisogna hanno preso parte le celebrazioni per il 60esimo anniversario del gruppo marinai di Pisogna. Ponte Nossa avanzano i lavori per la realizzazione della chiesetta all'oratorio posata la croce sul terrazzo. Iniziata la lunga ed emozionante stagione della corsa in montagna, come da tradizione sul tracciato del Monte Beio, vincono per una volta consecutiva gli orange dell'atritica Valli Bergamasche e Leffe. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. Soccorsi in azione nel pomeriggio sulle montagne sopra la Val del Riso. L'elicottero di Bergamo è stato chiamato ad intervenire nella zona del Greme. L'allarme è scattato poco dopo le 15. Dalle prime informazioni sembra che un uomo di 63 anni, un escursionista, sia infortunato nella zona tra il bivacco Mistri e la terza baita del Greme. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Piario a bordo dell'elicottero del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Maxi operazione della questura di Bergamo. Una decina di persone sono finite nei guai per via di un sistema legato al rilascio dei permessi di soggiorno. Sentiamo Fratemi Lazzarini. La questura di Bergamo ha condotto una vasta operazione tra le province di Bergamo, Milano e Novara che ha portato all'arresto di 10 persone, 5 in carcere e 5 ai domiciliari. Le accuse a vario titolo sono favoreggiamento aggravato di immigrazione clandestina, falsità ideologica, alterazione di documenti per il rilascio del permesso di soggiorno e plurimi episodi di corruzione. Tra le persone portate in carcere ci sono Andrea Sciortino, 62 anni, della polizia locale del comune di Bergamo, e Leandra Arnaldo Pavore, brasiliana, di 58 anni, candidata di Forza Italia alle prossime elezioni del Consiglio Comunale di Bergamo e che in passato aveva vissuto a Fino del Monte. Tra le persone invece poste agli arresti domiciliari ci sono Saverio De Buono, 66 anni, segretario comunale in diversi comuni bergamaschi, tra i quali Orio Alserio e Foppolo, Mattia Cirrone, 61 anni, comandante della polizia locale di Orio Alserio, Leo Pezzimenti, 65 anni, appartenente alla polizia locale di Bergamo, e Pierpaolo Peroziello, 42 anni, coadiutore amministrativo contabile in servizio alla Questura di Bergamo. Le indagini erano iniziate nel 2016 in seguito ad una segnalazione dell'ufficio immigrazione della Questura, dopo che Peroziello aveva avviato la validazione di alcune pratiche di rinnovo di permessi di soggiorno di cittadini cinesi, consegnando certificati di residenza che dalle verifiche sono risultati contraffatti. È venuto così a galla un sistema con laudato che, secondo l'accusa, era gestito da due agenzie di via Borgo Palazzo a Bergamo, facenti capo a Leandra Pavore e ad un cittadino cinese di 43 anni, Xiao Chao Dong, detto Giovanni. Con la presunta complicità degli agenti della polizia locale finiti agli arresti e di un dipendente del comune di Albano Sant'Alessandro, Walter Flaccadori, di 36 anni, hanno creato le condizioni per ottenere il nulla osta a ricongiungimenti familiari, oltre che rinnovi di permessi di soggiorno a cittadini cinesi privi dei requisiti necessari, falsificando certificati ma anche creando residenze e attività di lavoro fittizie. Dalle intercettazioni è emerso che il costo per ogni pratica variava dai 3.000 euro per il rinnovo dei permessi di soggiorno ai 9.000 euro per un ricongiungimento familiare. Marinai in festa ieri a Pisogna per i 60 anni del gruppo pisognese dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Sono arrivati da gran parte della Lombardia i marinai che domenica mattina a Pisogna hanno preso parte alle celebrazioni per il 60esimo anniversario del gruppo marinai di Pisogna. Attorno alla grande ancora blu, simbolo di pace e fratellanza posato 50 anni fa sul lungo lago, si sono ritrovati per ricordare i marinai caduti nelle guerre mondiali, gruppi della sezione della Lombardia nord-este delle province di Brescia, Bergamo e Como. Presenti l'ammiraglio della Marina Militare Luca Conti, le autorità cittadine, delegati dell'ANMI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, regionali e nazionali. Numerosi i marinai in divisa ad accompagnare la cerimonia la banda musicale cittadina. Si festeggiano due importanti anniversari, la commemorazione del 60esimo di costituzione del gruppo marinai di Pisogna, il 50esimo di inaugurazione del monumento. L'importanza di questi due anniversari è dare continuità a ciò che è stato fatto dai nostri predecessori che hanno pensato, costruito e realizzato questo monumento e chiaramente per tenere nel tempo il ricordo dei nostri reduci. Oggi come oggi è importante perché sarà la continuità dei valori umani, sociali per il futuro, anche in riferimento ai giovani che questi valori forse stanno un po' venendo meno. Gli iscritti al gruppo marinai di Pisogna sono 71 soci. Il consiglio direttivo è costituito dal presidente che sono io Sergio Andreodi e dal mio vice presidente che è Giovanni Ondelli. Gli è il consiglio di fare un'eicino montato, cioè davanti come sei che non può fare un'eicino e lo spagale non è stata proprio la terra. Gli è il consiglio di fare un'eicino ristotico, perché, apportare un'eicino all'eicino alla Churche che è stata fatta, già io sono andati e non ho la pergi, posso fare un'eicino all'eicino 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 allo A Roma e l'eicino adoroazò, Grazie a tutti. Per un primo periodo promozionale si pagherà meno. Per le prime tre ore il costo prestabilito è di un euro all'ora. Ben 298 i posti autorealizzati e accessibili 24 ore su 24. E a Ponte Nossa avanzano i lavori per la realizzazione della chiesetta all'oratorio. Ne abbiamo parlato con il parroco Don Alessandro Angioletti. I lavori sono a buon punto. Come potete vedere alle mie spalle la parte nuova dell'oratorio sta procedendo bene. Sotto abbiamo ricavato i nuovi spogliatoi, la nuova segreteria all'ingresso dell'oratorio, il locale caldaia e il magazzino come di fatto già erano a parte la segreteria che è un ambiente totalmente nuovo per l'ingresso dell'oratorio. Mentre al piano superiore, appunto come vedete, dicevo come vedete alle mie spalle, ci sarà appunto la nuova chiesina, la nuova cappellina. Potrebbe essere la domanda a cosa servirà una nuova chiesa a Ponte Nossa. Innanzitutto potrebbe e sarà non solo una nuova aula di culto, ma per un oratorio penso che la chiesa sia il cuore pulsante. In un oratorio ci può essere tutto, ci possono essere i campi sportivi più belli del mondo, un bar efficiente, delle aule di catechismo, ma se manca il cuore pulsante penso che manchi molto. E' una chiesina dove i ragazzi possano ritrovarsi, possano pregare, possono anche a livello educativo comprendere la differenza tra il campo sportivo e una chiesa, penso sia la base di un oratorio. Quindi l'ho fortemente voluta e sono contento di poter vedere una bella struttura che sta andando verso il suo completamento, che poi diventerà anche occasione per la celebrazione feriale, soprattutto nei momenti invernali. Mentre sotto, come dicevo, abbiamo ricavato gli spogliatoi, due spogliatoi molto belli, molto funzionali per le squadre, le nostre squadre di calci, i nostri ragazzi e anche le squadre degli adulti che si stanno avvicinando anche alla nostra società sportiva. Ci sarà appunto, ovviamente non può mancare lo spogliatoio dell'arbitro e come dicevo, questo nuovo locale che è la segreteria, posto all'ingresso dell'oratorio, consentirà anche a me di poter passare più tempo anche all'oratorio, non solo intrattenendomi nelle relazioni, ma anche mentre sono qui poter lavorare e poter accogliere anche chi va, chi viene dall'oratorio, essere forse un po' più presente. E mentre preparo un po' le cose della parrocchia, poter anche essere un po' a contatto con quei ragazzi, soprattutto con la gente. Prima di parlare dei finanziamenti, la parola d'ordine è grazie. Grazie per questi finanziamenti ricevuti, ricevuti da Fondazione Cariplo, attraverso una grossa mano che l'amministrazione comunale, e ringrazio per questo il sindaco Stefano Mazzoleni, una grossa mano che ci è stata data proprio perché questi fondi erano destinati all'altro e non potendo essere spesi. Peraltro sono stati dirottati in modo chiaro e limpido sull'oratorio. Il sentimento è di ringraziamento per aver ricevuto questi finanziamenti che andranno a finanziare gli spogliatoi, come hanno finanziato il campo sportivo. Mentre ovviamente per quanto riguarda la Chiesina mi rifaccio alla generosità di tutti. La curia ci ha concesso di allungare questo mutuo che già avevamo, ma sicuramente la generosità delle persone di Ponte Nossa che si sta già vedendo e sto già percependo mi permettono davvero di dire grazie a tutta la popolazione per questo. Le tempistiche sono buone, siamo ormai in dirittura di arrivo. Ho avuto la gioia di annunciare nel giorno di Pasqua, che penso sia il giorno più importante dell'anno per ogni cristiano, l'inaugurazione dell'oratorio con la benedizione da parte del Vescovo, delle nuove strutture, della nuova Chiesina, il 29 giugno. La mattina del 29 giugno il Vescovo sarà qui con noi, presiederà una solenne celebrazione alle 10.30 nella nostra Chiesa, nel nostro santuario e poi in corteo saliremo per essere qui a mezzogiorno per l'inaugurazione dell'oratorio, ripeto, delle parti nuove, così come la benedizione di tutto l'oratorio. Il sabato 11 maggio a Clusone verrà presentato il libro Tale Padre, Tale Figlio, tema di cui si occuperà domani sera con Target Gian Antonio Bonaldi. Nel Target di domani sera parliamo di avventura, di biciclette e di libri. Benvenuto a Simona Trussardi che sarà l'ospite del Target domani sera. Simona Trussardi che è un geologo, ma qui è un ciclista che ha fatto con suo padre Franco Trussardi, Ciuli, un viaggio in bicicletta in Islanda, terra di freddo, di freddo, mi verrà vedere ancora di freddo, di cascate, di geyser. Come mai questa idea dell'Islanda? L'Islanda è un posto meraviglioso, è il posto più bello dove sono mai stato. Certo in bicicletta magari non è il posto ideale, però in bicicletta sai godere anche di aspetti, di angoli che ti perderesti sicuramente. Del libro non ne parliamo tanto perché lo presenti l'11 maggio, ed è per questo che l'ho invitato. L'11 maggio, tale padre, tale figlio, io lo spero, questa è la copertina dove c'è proprio Franco Ciuli che purtroppo ci ha lasciato una storia gioiosa, nonostante si ricordi Franco Ciuli, che è tuo padre che ci ha lasciato. Gioiosa. Assolutamente, mi piace dire che questo libro è un libro felice, anche se si può pensare il contrario, perché scrivendolo io ho rivissuto questo viaggio e mi sono reso conto di quante cose belle e quanta fortuna mi ha lasciato mio papà. Allora, in questo viaggio caratterizzato da queste immagini bellissime, bellissime che ci ha portato lui, quindi cascate, geyser, vulcani, eccoli qua seduti. In questo viaggio tu ne trai un libro che, come dicevo, con il patrocinio dei Lions di Clusone, ma anche con la vicinanza del CAI di Clusone, così come dell'Avis di Clusone, presenti l'11 maggio all'auditorio di Clusone che io mi auguro sia strapieno. Speriamo, anche perché, ti anticipo, forse volevi dirlo te, ma la finalità di questa serata è quella appunto di vendere il libro per un progetto di beneficenza per il Nepal. Il Nepal tanto caro a tuo padre? Sì, mio papà è stato tre volte in Nepal, ma soprattutto è rimasto innamorato di questa terra che era un po' come lui, era semplice e senza tanti fronzoli. Allora, siamo un po' laconici perché il libro per capirlo e per conoscerlo bisogna leggerlo e quindi lo trovate in vendita già là, lo trovate in vendita poi in vari altri posti. Anche questa è un'immagina stupenda e questa ancora, sembrate alle 6 Shell qui, invece? Invece siamo su una spiaggia di Reykjavik, la sabbia è gialla perché è stata importata dal Marocco, non chiedemi perché, e l'acqua è acqua invece geotermale, quindi naturalmente calda. A Minja, credo di averlo detto giusto, che mi piace molto. A Minja che vuol dire? Felicità in islandese. In islandese. Poi hai scritto tante parole in islandese per le località che sono veramente illegibili. Noi ti facciamo gli auguri, i complimenti prima per aver scritto un libro, io l'ho letto meraviglioso da non perdere, quindi credo che ne arriveranno anche altri. E poi i complimenti perché so che hai in mente anche un altro viaggio, non lo dico, ma va in Nuova Zelanda e coinvolge un suo amico. Grazie per essere venuto qui in Bocca al Lupo, 11 maggio, Auditorium Scuola Elementari di Crusone, presenta il suo libro Simone Trussardi. Grazie. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2, ora passiamo allo sport e iniziamo dalla corsa in montagna. La squadra dell'atletica Valli Bergamasche di Leffe, composta da Luca Cagnati, Alessandro Rambaldini e Xavier Chevré, ha vinto sabato a Leffe la sedicesima edizione del trofeo Valli Bergamasche, gara nazionale di corse in montagna a Staffetta. Ha preceduto di 36 secondi il terzetto dell'atletica Valli Brembana, composto da Nadir Cavagna, Matteo Bonzi e Francesco Puppi. Terzo posto a 2 minuti e 47 per il team Tornado, mentre la squadra dell'area Castello Radici Group ha concluso al quarto posto. Nella classifica dei tempi individuali il migliore è stato Nadir Cavagna dell'atletica Valli Brembana. La gara femminile è stata vinta dalla valtellinese Elisa Sortini con un vantaggio di 1 minuto e 55 su Gaia Colli dell'atletica Valli Brembana. Terza a 2 minuti e mezzo la Camuna Valentina Belotti. Samantha Galassi della Ricastello ha concluso al quinto posto alle spalle della valtellinese Elisa Compagnoni. Sono soddisfatto della mia gara, sono partito un po' in sordina, diciamo, non con grandissime aspettative, viste i lunghi allenamenti delle scorse settimane. Però poi in gara ho avuto delle buone sensazioni e sono riuscito anche a avvicinare Nadir nella prima discesa lunga, poi nel finale dove era più corribile mi è andato via di qualche secondo. Comunque per me è una buona frazione, un buon test anche per settimana prossima in vista di Saluzzo. E niente, sono contento che è tornato a correre con noi Xavier dopo molto tempo che non lo faceva e niente, speriamo di recuperare anche tutti gli altri tasselli della nostra squadra in fretta. Con oggi Aleffe si è aperta la stagione della corsa a montagna, ci tenevo essere presente per confrontarmi un po', vedere a che punto sono. Gara veloce, però salite davvero abbastanza impegnative da spingere, comunque una gara non ti lascia un attimo di respiro. Sono partita sapendo che comunque Gaia è veloce, quindi sinceramente non sapevo bene come gestire, mi ho provato a partire insieme a lei, subito dietro c'era Samantha e poi vabbè presa la salita ho visto che ho iniziato a staccare le avversarie, poi mi sono ritrovata un po' solo a tutta la gara e quindi ho cercato di tenere un po' il mio passo, però senza cercare di mollare troppo per comunque tenere il ritmo e fare un bel crono. Sono stata bene, bella gara, bellissimo tifo e spero di tornare ancora Aleffe, anzi tornerò qui vicino il 10 giugno per le selezioni per gli europei. Passiamo alla pagina del calcio, come dopo la vittoria al San Paolo contro il Napoli, l'Atalanta ha ricevuto un altro caloroso benvenuto. Un migliaio di tifosi dopo il 3-1 contro la Lazio ha accolto il ritorno della squadra fuori dal centro sportivo di Zingonia. Con il consolidamento del quarto posto l'Atalanta ora ancora davanti tre partite contro il Genoa, la Juventus e il Sassuolo e il tifo inizia a credere nella Champions League. Salta con la curva, Gollini salta con la curva e uno dei cori con cui è stato accolto in particolare Pierluigi Gollini, portiere uno dei protagonisti contro la Lazio. Passiamo invece ora al calcio locale. Partiamo dai play-off dell'eccellenza. La Vertovese ha battuto in casa il Telgate per 1-0. La Vertovese incontrerà il Breno nella finale di sabato prossimo. Breno che ha pareggiato con la Bedizzollese per 0-0. Il primo turno dei play-off del campionato di eccellenza al Gironici, incontro fra Vertovese e Telgate, è terminato con la vittoria della Vertovese per 1-0. Partita vibrante, molto interessante, seguita con passione dal pubblico presente qui sugli spalti di Vertov. La Vertovese aveva due risultati a disposizione ma è riuscita con un gol di Carrara Tommaso al 37esimo del primo tempo a fare il suo intero posto in palio. Poi la formazione ospite allenata da Alessio Pala le ha provate tutte in diverse occasioni, tante conclusioni, ma il portiere della Vertovese Matteo Nodari è veramente sugli scudi. Tre o quattro interventi prodigiosi che hanno evitato sicuramente il pareggio per quanto riguarda il Telgate. Vertovese dunque che in virtù del secondo posto in campionato poteva anche pareggiare questa gara per passare il turno, l'ha vinta per 1-0. A mio avviso molto brava la formazione di Alessandro Locatelli a conquistare appunto il passaggio al secondo turno di questi play-off per il girone 5. La Vertovese l'ha vinta per 1-0 ma è stata tiratissima fino alla fine. Come ci aspettavamo? Forse... Allora, tirata così ce l'aspettavamo. Poi sinceramente il risultato è un po' una sorpresa, nel senso ci contavamo però sapevamo che comunque l'avversario era più attrezzato di noi per giocarsi questa partita. Ma noi siamo una squadra che o gioca per far gol e non prenderlo, ma se gioca solo per non prenderlo non è roba nostra e quindi ho chiesto ai ragazzi proprio di giocarsi la partita come se fosse sullo 0-0 e potevano vincere entrambe, quindi l'hanno giocata con lo spirito giusto. Nodari è in porta per parare, come gli attaccanti per fare gol, dopo a volte lo si fa meglio o lo si fa peggio. Penso che oggi tutta la squadra sia stata straordinaria per la prestazione che ha offerto. Se abbiamo probabilmente il miglior portiere che gioca in questa categoria, come dicono in molti, sono contento che anche questa volta l'abbia dimostrato. L'andata play-out del campionato di promozione, Atletico Chiuduno Pradalunghese è terminata con la vittoria della Pradalunghese per 2-0. Nell'andata dei play-out di promozione della Pradalunghese vince 2-0 a Palosco contro l'Atletico Chiuduno e mette davvero una sceglia ipoteca sulla salvezza. La formazione seriana chiaramente si giocava tantissimo in questo mezzo d'annata, ha giocato davvero una buona sfida, creando tanto, rischiando pochissimo, andando in vantaggio di due reti e gestendo il finale con gli avversari addirittura in 9 uomini. Chiaro che la Pradalunghese, essendo arrivata davanti in classifica nel match di ritorno, potrà anche perdere con due gol di scarto in casa per mantenere la categoria. Chiaro che a Pradalunghese ci si augurano tutti in un match interessante e positivo come quello di oggi. Dall'altra parte invece il Chiuduno ha avuto una giornata nerissima, non solo appunto la sconfitta 0-2, ma anche l'espulsione di Bozis e Mecca che non ci saranno al ritorno, dove il Chiuduno per mantenere la permanenza in promozione dovrà vincere con tre gol di scarto. Mister Manuel Finazzi, grande prestazione dei suoi, 2-0 pesantissimo in vista del match di ritorno. Sì, abbiamo fatto una buona partita, ma il calcio, con l'esperienza che ho là, sono sempre sorpresi, è stato il primo tempo fatto bene, la prima partita è fatta bene, ma c'è ancora un ritorno da guardare e sicuramente dovremo lavorare tutta settimana con la giusta intensità. Sì, ha creato bene, ha giocato bene, però ripeto, sono moderatamente soddisfatto. È chiaro che c'è ancora 90 minuti e dobbiamo andare ancora per 90 minuti. Tutto qui non c'è niente da aggiungere se non ha di essere contenti, ma non più di tanto insomma. Nel messo di ritorno come esistirà il doppio vantaggio? Come abbiamo fatto questa partita, con la testa, con molta tranquillità, consapevoli che non sarà facile, però rimane sempre una partita di calcio. Non dobbiamo andare oltre la partita di calcio che è, basta. Non è questione di Vito Di Motto, come la fanno passare in tanti, ma è una partita di calcio e è chiaro che poi alla fine dispiace per chi dovrà magari lassare la categoria, ma dobbiamo affrontarla con serenità e con tranquillità. Domani sera torna in onda la rubrica di pareri, l'opinione locale, il sasso nello stagno a cura del nostro otto anni tranquillo. Domani sera tornerà alle 20.40 il nostro appuntamento con il sasso nello stagno, questa settimana ad Albino per parlare del magico momento dell'Atalanta. La squadra bergamasca in piena lizza per un posto in Champions League, ma anche in finale di Coppa Italia. Come andrà a finire questa finale di stagione? L'abbiamo chiesto alle persone incontrate ad Albino. Domani sera tutte le interviste ovviamente del sasso nello stagno, ma oggi adesso un'anticipazione. Arriva nella Champions, sicuro. Sì? A voglia. Mai. Ebbè ma dietro sono agguerrite. Chi? Da Roma. Ha perso l'opportunità domenica. Il Milan. Ha perso l'opportunità qualche giornata fa. Chi baga? La Lazio? La Lazio è morta ormai. Peggio ancora? No, no, non ce n'è per nessuno. Anzi, 9 punti in 3 gare. Addirittura? Anche contro la Juve? Anche contro la Juve. Sono comodi. Ne bastano 7 per arrivare alla Champions, matematica? 3-3-6. No, ma anche i 3 punti con la Juve. Oh sì? Giocando così, sì. C'è qualcuno che baratterebbe l'arrivo in Champions con la Coppa Italia? Assolutamente meglio la Champions. Per una volta. Meglio la Champions? Eh sì. E ma la Coppa Italia sarebbe in bacheca lì? Così, non è una Coppa, Coppa Italia. Vuol mettere a giocare magari contro Barcellona così. Attalata a Barca. Solo la soddisfazione. Magari anche a batterli in casa. Beh, si può fare tutto con Gasperini. Eh, Gasperini, chi è il vero segreto della squadra? Lui. Lui che sa far giocare le persone. Ha lanciato parecchi giovani. Contratto già allungato fino al 2021. Non lo so. Ma hai rilanciato la frase sibillina. Se qualcuno mi vuole parli con il Presidente. Giustamente perché anche lui deve fare le sue esperienze. Lui ha dimostrato di essere un grande allenatore. Può arrivare ovunque. Una breve pausa tra poco. Grazie a tutti. Terza ed ultima parte del telegiornale di Antena 2. Ora continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20.10. Trasmetteremo tempi supplementari. Alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 23.40 Agri Sapori. La mezzanotte e mezza la terza ed ultima parte del nostro notiziario. Telegiornale che tornare in onda anche alle ore 21.30. Ma sul canale numero 218 del Digitale Terrestre. Su canale sportivo numero 628 alle 20.10. Trasmetteremo tempi supplementari. Mentre alle 22.30 la partita di calcio. Atretico chiude uno per Adalunghese. Dal Manacco per domani martedì 7 maggio. Il sole sorge alle 5.54. Tramonta alle 20.40. Il culmine è alle ore 13.17. La durata del giorno è di 14.46. La luna sorge alle 7.49 e tramonta alle 23.24. La fase lunare. La luna è crescente ed è visibile al 16%. La chiesa ricorda il Beato Alberto da Villadogna. Ecco le previsioni del tempo per domani martedì. Cielo sereno poco nuvoloso per transito di nuvolosità medio alta o velature. In serata aumento della copertura. Le temperature resteranno relativamente basse. E con questo è tutto. Noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.